Siamo alle battute finali della pandemia, ha detto, quando verranno riviste le misure di contenimento per il Covid, a partire dalla mascherina? Ma vede, già siamo quasi arrivati al 100% delle aperture, manca lo sforzo finale sulle discoteche e spero che questo avverrà in pochissimo tempo, così come i concerti, così come il distanziamento. La progressione sarà questa, si riaprirà tutto al 100%, poi verrà tolto il distanziamento su tutto, poi verrà tolta la mascherina e poi vedremo il Green Pass in quanto tempo. Certo, il Green Pass rimarrà ancora per molto tempo, perché è chiaro che è l'ultima misura che consente, e lo vedete dai nomi, ritenere l'Italia con una circolazione del virus molto, molto bassa rispetto ad altri paesi nord europei, dove oggi i contagi sono di più, contagi che non significa aumento della mortalità, ma pur sempre sono dei contagi.